Buon pomeriggio, conferenza stampa post Trapani San Cataldese, come al solito ragazzi sapete consuetudine, vi presentate e silenziamo i telefoni. Prego. Franco Camarasana, Gazzetta, intanto un commento su questa partita un pochino, ha rispecchiato quelle che erano state le indicazioni di ieri in fase di presentazione. Buonasera a lei e a tutti, intanto buon pomeriggio. Quando si studia l'avversario e si dice che le partite hanno nascosto delle insidie, non è perché è una frase fatta o bisogna dirla, perché partite facili non ce ne sono e perché la San Cataldese in tutte e tre le partite, comprese questa, ha creato qualche difficoltà. Io vorrei esordire facendo i complimenti alla squadra perché oggi ha dimostrato che è al punto più alto della maturità e della gestione della gara. I primi 20-25 minuti, nonostante abbiamo creato qualcosa, la San Cataldese ci ha sforcato la partita, concedeva pochi spazi, costringendoci alcune volte anche l'errore individuale. La squadra non si è spazientita, ha avuto pazienza, consapevolezza di avere solo un unico obiettivo, quello di cercare con calma e con pazienza il gol, di non buttare mai la palla, cercare di avere proprio la serenità mentale con la consapevolezza che prima o poi il gol non lo facciamo e così è stato. Abbiamo giocato una partita, secondo me, sotto l'aspetto mentale e tattico il primo tempo da 10, perché non era semplice. Vedavamo che la San Cataldese, ho detto il termine sporcava perché non riuscivamo alcune volte a fare quello che volevamo fare e quello quando avevamo la palla pensavamo di fare alcune cose e poi attraverso l'avversario non riuscivamo, ci impediva di farlo. E lì non ci siamo spazientiti, a differenza di altre volte quando magari nelle partite molto all'inizio della stagione lì perdiamo un po' la pazienza, entriamo in una fase di confusione, invece la squadra ha avuto una grande gestione di questo tema. E poi quando abbiamo fatto il gol ha dimostrato ancora una volta l'inerzia mentale, la forza e la cattiveria, abbiamo fatto 5 minuti terribili e abbiamo fatto subito il secondo gol e abbiamo messo la partita in ghiaccio. Questo va sottolineato perché va detto che non siamo da soli, c'è l'avversario che prova in tutti i modi a metterci in difficoltà e quanto intendo per metterci in difficoltà non vuol dire che ti rimporta e che creazione del gol perché non ne abbiamo mai subito oggi, però ci ha sporcato la partita cercando di fare giocare male il Trapani. Lì bisogna avere una buona gestione e una buona maturità. Il Trapani oggi sotto questo punto di vista l'ha fatto in una maniera incomiabile e quindi i complimenti vanno a loro. Poi abbiamo iniziato ad avere più spazi, abbiamo giocato, abbiamo creato, potremmo sfruttare tantissime ripartenze, però sono soddisfattissimo. Tenere sempre questi ritmi non è semplice, sia sotto l'aspetto fisico di intensità e anche sotto l'aspetto mentale. Ancora una volta la squadra ha dato dimostrazione a se stessa soprattutto di confermarsi con una mentalità importante, vincente e questo poi alla fine ci ha portato a questi tre punti che sono fondamentali, che ci portano ancora più vicini al traguardo, all'obiettivo e quindi siamo ben felici e contenti di aver regalato quest'altra gioia alla nostra gente che ancora oggi ha dimostrato che nonostante le previsioni sono delle migliori e senza ombrello è venuta a tifare e a incoraggiare il trapani e questa è la vittoria più bella da parte nostra, vedere la gente che non si è scoraggiata dal maltempo, le previsioni non belle, come sempre sono stati il nostro valore aggiunto, del nostro come più. Una seconda domanda da parte mia. Questa è la considerazione, la domanda ci mancherebbe. Nelle scelte fatte nel valore della formazione ma anche un pochino nella gestione della partita, mi è sembrata che sia stata una partita giocata in funzione anche di quella che ci sarà mercoledì prossimo, mi è sembrato il primo tempo di una partita più lunga ecco. Sì, abbiamo fatto assieme allo staff delle scelte con dei cambi già predefiniti e programmati nel nostro piano gara, abbiamo scelto di fare giocare Bollino dall'inizio lì davanti perché volevamo vedere anche Mauro dell'inizio, ha fatto bene ultimamente dentro casa, Kragge l'era in diffida quindi abbiamo evitato di portarlo in campo e rischiare magari una munizione in una partita di questa, ma deve essere una partita maschia come lo è stato. Andrea non stava benissimo però il ragazzo è andato in campo e ha fatto una buona partita e abbiamo riconfermato convinto. Centrocampo abbiamo lasciato riposo a quadro per dare spazio a Crimi e Maricosu insieme a Palermo. Dietro abbiamo riconfermato la difesa di domenica scorsa per dare anche spazio e tre over al centrocampo e poi abbiamo diviso la partita ai centrocampisti, doveva onestamente entrare Sbrissa per Maricosu che era ammonito, poi Palermo ha avuto la botta e l'abbiamo sostituito, convitto con Sartore sono divisi quasi un tempo anche in prospettiva di mercoledì, è entrato Montini bene, 20 minuti, io penso che abbia fatto una buona gestione della gara. Sono soddisfatto soprattutto ancora una volta di chi è entrato, perché i cambi sul 3-0 probabilmente potevano far abbassare l'intensità della partita, invece i ragazzi sono entrati forte, hanno spinto, volevano tutti far gol, volevano tutti arrivare nell'area di rigore avversaria e questa è una cosa troppo importante perché continua a dimostrare che questa squadra ha un'intensità mentale importante e ce l'ha in tutti i suoi elementi e questo penso che è la cosa più bella che possiamo vedere, perché in una partita del genere poi poteva magari prendere una piega brutta, finire in una maniera diversa, invece no, è bello che questa squadra deve avere fame, di fare sempre di più, di non mollare mai, di fare quanto più azioni e gol è possibile, quanto più punti è possibile, quanto più vittorie è possibile e questo va dimostrato anche in queste mini partite che ci sono all'interno di una partita. Michele Scandariato, mister, complimenti, partita perfetta secondo me, avete di fronte un avversario, come hai detto bene tu, ostico perché è una squadra che probabilmente per come è messa in campo vi dà qualche noia. Solo una curiosità ti volevo chiedere, ma il campo da gioco, il terreno da gioco, da fuori, magari noi da lontano lo vediamo non compatto, ma dico, vi dà problemi o è solamente una questione cromatica? No, 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 è solo ed esclusivamente un effetto ottico, il campo noi nel terreno ci lavoriamo tutti i giorni, è stato fatto un ulteriore lavoro perché giustamente la società ha un obiettivo quello di fare omologare il terreno di gioco proprio per la Lega Pro e quindi la FIFA ha dovuto, è intervenuta dando delle linee guida per com'è, la società si è fatta trovare pronta ancora una volta e quindi l'effetto ottico è questo, però il campo è in condizioni perfette, oggi naturalmente con la pioggia diventava un po' più scivoloso e magari la parte del cocco che veniva messa si alzava un po', però può diventare un campo leggermente più pesante adesso perché c'è una quantità notevole perché si è alzato un pochino il livello e lo strato, però il campo con tutto rispetto abbiamo forse un terreno di gioco che non lo so. Infatti era una curiosità e poi volevo sottolineare la prestazione di Grimi che secondo me oggi veramente è stato veramente il migliore in campo senza togliere niente agli altri che hanno fatto tutti, una bellissima partita, ha recuperato un mare di palloni, ha messo assist, il giocatore è veramente cresciuto tanto in questo ruolo che forse non era il suo ruolo preferito probabilmente, magari l'abbiamo visto in passato anche spingersi un po' più, non quattro, ma in altre squadre giocare un po' più anche da trequartista, mezzala magari offensiva, invece ha trovato una dimensione secondo me veramente di altissimo livello. Io penso che quando un giocatore ha qualità e alla qualità viene abbinata la professionalità nell'essere giocatori con fame, con voglia, anche con la cattiveria agonistica giusta che non guasta, il risultato è questo. Marco ha fatto una partita eccelsa come tutta la squadra comunque all'Ocri da mezzala, oggi da play ha fatto un'altra grande partita. Questo cosa vuol dire? Che interpreta il ruolo per come gli chiede l'allenatore e a quello aggiunge la voglia di fare bene. Quando c'è questo? Questo è lo stesso metro, lo stesso tra virgolette segreto che ci porta poi a lavorare in un determinato modo, a cambiare 7, 8, 9 undicesimi e ad avere quel risultato in campo di una squadra che ha voglia, che ha fame e quindi Marco è un giocatore sicuramente di qualità che quando è arrivato non stava fisicamente bene perché aveva fatto molto lavoro singolarmente e non aveva ritmo partita, ritmo come un allenamento, cioè l'allenamento del singolo non può essere mai intenso o essere paragonato a quello del collettivo, però ha avuto il tempo anche lui di mettersi in condizione, lo staff si è messo a sua disposizione e quindi quando ho detto che abbiamo preso il direttore Mussi, che ha fatto penso un colpo importante, ha preso crimine a ottobre e parlavamo, l'importante è che ce l'abbiamo pronto per il mercato di dicembre che ci porta a gennaio. Questo è stato quello che si è prefissato alla società e così è stato e Marco è stato un giocatore che fino ad oggi sta dando un contributo importante e sta dando sicuramente ancora di più verità a quello che sono le sue qualità e soprattutto all'uomo che è. Buonasera Ministro, Beppe Cassisa Borsa-Trapani, parto dalle considerazioni più positive che stasera raccolgo una conferma, nel senso che questo Trapani riesce a segnare con continuità anche sulle azioni, eravamo abituati all'inizio a vedere sui calci piazzati il Trapani a segno, adesso grazie alle giocate anche in tandem come abbiamo visto oggi nelle due occasioni, però segniamo su azione con una certa continuità e questo è un fatto sicuramente positivo. come del resto anche il fatto che in difesa non abbiamo neanche subito un tiro e questa è un'altra considerazione positiva. Se poi posso invece fare una considerazione, non è una considerazione negativa ma semplicemente un appendice a quello che diceva lei, abbiamo potuto vedere che non abbiamo iniziato con grande piglio, con grande aggressività, merito loro sì senz'altro, però non c'è stata quella aggressività che poi invece nel corso della partita via via che si è andata avanti ho visto, una squadra che è in salute e lo ha confermato anche con l'ingresso dei campi che hanno dato questa aggressività, però all'inizio sinceramente non ho visto quel piglio delle altre partite. Sì, sono d'accordo e questo è dovuto anche al loro modo di giocare che ci ha un po' sorpreso, perché in queste due partite che ha giocato con il nuovo allenatore hanno giocato una partita 4-3-3 contro il 4-3-3 del Sant'Agata e poi hanno giocato in casa contro il Ragusa, gioca 3-5-2, 3-4-2-1 col 4-4-2. Con lo staff avevamo preparato entrambe le situazioni, la squadra era consapevole che potevamo affrontare una squadra che aveva questi due sistemi di gioco, però magari eravamo più convinti del 4-3-3 perché pensavamo che il 4-4-2 fatto settimana scorsa era dettato dalla lunga lista di indisponibili che aveva la San Cataldese. Questo loro modo di giocare inizialmente non ci ha sorpreso perché ce lo aspettavamo in percentuale anche minima, però avevamo tutte le uscite programmate per il 4-3-3, quindi quei dieci minuti di assestamento per cercare di riorganizzarci perché col 4-3-3 mandavamo a Marigò sul play e andavamo a fare una pressione media, non forte, soprattutto indirizzando da un lato per andare a fare densità zona palla con tanti uomini. Col 4-4-2, nonostante non avevano un unicolo che si abbassava, avremmo fatto una fase di non possesso diversa dove andavamo uomo contro uomo nei quattro di difesa, dove mandavamo eventualmente una mezzala, quella di catena, sul difensore centrale forte per andare a creare il 4-4 con attaccante mezzala, due difensori centrali più i due esterni e i due terzini. Questo inizialmente ci ha un po' bloccato perché il tempo di riorganizzarci sotto questo punto di vista ci ha permesso un 10-15 minuti dove tra il loro modo che ci hanno sorpreso e anche il nostro non in fase di possesso non abbiamo trovato quella giocata che ha acceso la partita e quindi magari siamo stati un po' così, però come ha detto bene lei poi alla fine siamo usciti e questo penso che non è stato dettato dall'un approccio non positivo della squadra, è stato dettato come ho detto più volte anche dall'avversario che deve dare adattamento a noi per poter riorganizzarci perché non abbiamo la bacchetta magica in campo poi, il tempo che si sistema, il passaparola, sistemiamo e in quel caso cosa facciamo? Ci abbassiamo un po', inevitabilmente il tempo di riorganizzarci e poi non ci siamo riorganizzati, siamo andati forti, abbiamo presi più alti, abbiamo fatto una pressione importante dove abbiamo recuperato tante palle. Sulla seconda parte della domanda, forse è la prima, non mi ricordo comunque, sul discorso di non subire, questa è una cosa che ormai ci portiamo da agosto, da settembre e sul discorso invece di fare gol di azioni, pian piano si è migliorata nel tempo e soprattutto questa è una conseguenza anche al gioco, che è più fluido, siamo più presenti nella meta campo avversaria, ha fatto bene a sottolinearlo però io dico che questo fa parte del percorso tattico che abbiamo scelto con lo staff di fare alla squadra. Prima parte del campionato l'importante cos'era? Fare punti, vincere e andare quanto più avanti è possibile. Per fare questo abbiamo scelto, non dobbiamo subire poco, pazienza, giochiamo male, non saremo belli, fluidi, l'importante è non subire, ripartire, portare la palla verticale quanto prima è possibile ad avanti e poi con la qualità che abbiamo, giocatori come Cocco, come Kragel, come Bollino, come tutti quelli che ci sono stati, Maricoso, non mi ricordo gli altri, cioè ricordo tutti però non li nomino tutti, prima o poi il gol lo facevamo, compreso il calcio piazzato e quello cosa ci ha portato? Ad essere in testa dalla prima giornata perché che se ne dica il Siracusa è stato qualche giornata in testa virtualmente ma noi siamo stati sempre a punteggio pieno quindi il Siracusa è stato in testa solo con una partita in più noi quando il Siracusa era in testa non eravamo a punteggio pieno quindi questa è una squadra che dalla prima giornata è stata a punteggio pieno e questo perché c'è stata sicuramente anche una strategia tecnico-tattica che era quella che doveva portarci all'obiettivo l'obiettivo qual era? Il nostro Presidente cosa dice? Vincere, 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 vincere quello di vincere siamo stati bravi e anche fortunati perché la fortuna non guasta mai e lei ha dato l'epilogo a quello che è stato il nostro percorso per arrivare fino ad oggi a creare tanto e magari ora qualche golletto sul calcio di piazzato però potremmo iniziare a fare di nuovo che è un po' manca quindi speriamo di farne presto Buonasera Minister, Francesco Torrente, Radiocuore e Trapanisi Intanto le chiedo una curiosità, cosa vi siete detti lei e Marigosu dopo il gol del 3-0? No, con Marigosu abbiamo una scommessa e ogni volta che gli dico che fa gol lui segna e dipende dal mio pensiero, quindi lui mi ha detto che siamo 5 su 5, ne ha saltato uno in una partita però spero che mi porti prima o poi a pranzo perché è prenotato ma non me lo offre mai solo questo, una botteva di scherzo comunque Federico anche oggi a parte gli scherzi ha dato un grande contributo, è stato nei momenti dove magari lui era uno di quelli più in difficoltà perché non riusciva a trovare le sue giocate, il fraseggio, l'imbucata, ha preso una munizione per un fallo di riaggressione e quindi questo è quello che va sottolineato che un giocatore come Federico, un giocatore di qualità, un giocatore che cerca le giocate tra le linee, gioca il dribbling, il passaggio, nel momento in cui nei primi 20 minuti come tutta la squadra aveva, non riusciva a trovare le sue giocate, però cosa ha messo? La cazzimma è chiamata, la voglia, la fame, quello l'ha portato anche a prendere la munizione per un fallo di riaggressione, per prendere la palla e questo è quello che dobbiamo fare quello che deve dimostrare la squadra è questo, non perdere mai di vista la fame, la voglia di vincere tutti i contrasti, di riprendersi la palla subito appena la perde, la voglia di dominare l'avversario, questo è quello che conta e per fare questo bisogna avere l'atteggiamento poi nel frattempo metti la maturità della gestione del momento, fino a quando poi penso che questa è una squadra che prima o poi il gol lo fa, ne abbiamo fatti 74 se non mi ricordo male ad oggi, quindi non lo facevamo oggi, penso che bisogna avere solo pazienza, serenità e questo poi cosa riporta? Alla gestione della partita, l'abbiamo fatta bene, abbiamo trovato il gol, abbiamo dopo subito il gol spinto in una maniera forte, cosa che fa parte di un percorso di crescita, perché magari all'inizio in quei periodi dove c'è tanto da lavorare, ottobre, novembre, facevamo gol e ci abbassavamo e davamo la palla all'avversario e pensavamo più a gestire, invece oggi no, questa squadra è ancora fame, voglia e questa voglia fa è incrementata ogni giorno e ogni partita, sul 2-0, sul 1-0, sul 3-0, perché c'è un percorso che bisogna sempre allenarlo e metterlo in atto. Una seconda considerazione, lei parla tanto della squadra dei ragazzi, dello staff, però io ritengo che anche Alfio Torrisi sia cresciuto tanto dall'inizio del campionato ad oggi, sia dal punto di vista della comunicazione che dal punto di vista della gestione della partita, della squadra, quindi ecco, ovviamente lei magari dall'interno non se ne rende conto, non so, però dall'esterno si vede proprio questo cambiamento, magari se vuole farne un commento. Questo mi fa piacere, se lo viene detto da voi, io penso che non cresce nella vita chi non ha ambizione, non cresce chi non ha fame, chi non è curioso, chi non vuole migliorarsi, io sono uno che per il mio lavoro do tutto me stesso, lavoro incessantemente, sono curioso, mi aggiorno perché ho l'obbligo e il dovere, oltre del risultato, di portare una proposta in settimana a 30 giocatori dove da lì devo avere credibilità della squadra e questo bisogna farlo solo attraverso il lavoro quotidiano, attraverso l'aggiornamento, il confronto, su questa cosa devo ringraziare il Presidente perché nel mio percorso di crescita è stato ed è un punto determinante perché il continuo avere colloqui con lui, il continuo confrontarmi, il continuo prendere i suoi consigli mi ha dato a me questa grande possibilità e questa grande forza e soprattutto quando anche nei momenti quando c'era qualcuno che come giusto che sia, magari ero un po' sotto critica, lui mi ha dato forza pubblica e questo non potete capire per un allenatore quanto è importante, quindi di questo sono contento che è felice che sto crescendo anch'io, sono ancora troppo piccolo, devo crescere tanto ma veramente tanto quindi se sono diciamo sulla strada giusta ma il percorso di crescita mio ancora ha tanta strada da affrontare e io continuerò con la fame, con la voglia perché ho detto più volte sarà un allenatore come tanti altri, forse tutti saranno più bravi di me, questo perché nel calcio tutto è opinabile però io sono convinto e su questo sono presuntuoso che più fame di me non ne può avere nessuno, posso avere la mia stessa fame, è la fame che ti porta ad essere curioso, a migliorarti, a studiare, ad andare via dall'ufficio alle otto la sera, alle otto e un quarto con i bambini che ti aspettano a casa per cenare, però abbiamo un obiettivo, quando uno ha un obiettivo in testa deve mettere tutto alle spalle, detto questo è vero quello che hai detto e me ne fa piacere però io ho uno staff che lavora come me incessantemente, dal mister Pappalardo che è un motore che non si ferma mai, che io stresso in una maniera enorme, non gli do pace, però lui lavora più di me perché lui si alza la mattina forse alle 5 per completare analisi, quello o quell'altro per farmi vedere tutte le cose pronte la mattina, io magari dormo, i due preparatori atletici il prof Calzone che dà dimostrazione ogni partita, la squadra nostra come viaggia, come va, come vola del lavoro suo che fa, siamo prof Panicola, proprio in una maniera incessante e poi ci sono i risultati perché fisicamente penso che stiamo bene, il mister dei portieri, il nostro allenatore, il mister Spampinato è vero, non subiamo, non facciamo, però i nostri portieri sono anche lì, sul pezzo, si fanno trovare per non parlare poi del dottore Tocco che è il nostro responsabile sanitario, di Claudio Fici che la mattina vengono alle 7, alle 8 a lavorare insieme a Ivan, noi abbiamo qui una struttura che veramente è qualcosa di fuori dal normale, di tutta gente che lavora, di tutta gente che non guarda orologio, tutta gente che non pranza, tutta gente che è qua tutto il giorno perché le terapie con i ragazzi, chi viene alle 8, chi viene alle 7, chi viene alle 3, chi viene alle 4, noi abbiamo due fisioterapisti che sono H24, tutto questo poi alla fine grazie a chi? Alla società che non ha guardato spese per cercare di creare un team vincente e questo è un team importante, non solo perché fa i risultati, non solo perché, dico ci rendiamo conto che oggi il Trapani, parliamo di record, di punti, di gol, oggi il Trapani è l'unica squadra che non ha avuto un espulso, né per 5 munizioni e né per un'espulsione diretta, l'unico sono stato io allontanato a vibbo perché sono entrato in campo nel gol del 3 a 2, neanche per protesta, questa è una squadra che ad oggi non ha avuto, facendo i giusti scongiuri del mondo, non ha avuto una, non ha avuto un infortunio da lesione muscolare, da lesione muscolare ragazzi ma di che stiamo parlando? Questo perché? Perché abbiamo un preparatore atletico che è un fuoriclasse e al minimo fastidio abbiamo anche Fici e Ivan Ogni Bene che io non potrò mai finire di ringraziare per la disponibilità che danno e per come hanno preso la causa a cuore, senza guardare orologio, senza guardare impegni, di essere sempre qua sul pezzo presenti, sai mister non ti preoccupare domenica te lo do e potevamo pensare anche che oggi siamo 30, vabbè tanto lo teniamo una settimana, l'ho invece loro, l'ho invece il pensiero è di darmi tutti disponibili ogni settimana, quindi io penso che questo è uno staff fantastico, a questo è poi concludo, siamo riusciti a trovare un'alchimia, uno spirito familiare di collaborazione e di gestione che penso difficilmente si può trovare, perché oggi fra staffo tecnico, staffo sanitario, i nostri magazzinieri che, me ne vogliate, lavorano 48 ore al giorno, su 24 ore 48 ore, il doppio e soprattutto con una sintonia, una sintonia che è un'onestà intellettuale da parte di tutti perché con tutti abbiamo un obiettivo e questa è la cosa più bella, quindi grazie perché quando uno si parla soprattutto di crescita nella comunicazione è una cosa importante perché la studio tanto e quindi sono contento, però c'è troppa gente che lavora dietro di me, che non è presente con la faccia e tutti i meriti che mi prendo io li devo dividere a tutti perché senza di loro il mio non era un lavoro che portava questi risultati. Buonasera mister, Federico Tarantino, Trapani Granata.it, il presidente Antonini ha appena annunciato che lei e il direttore Mussi saranno presenti anche per il prossimo campionato di Serie C, cosa ha da dire? Questa è bomba! Il presidente Antonini ha detto che... Ha dichiarato che lei e il direttore Mussi sono presenti in una famiglia personale in una famiglia. Siamo riconfermati, beh, bella notizia. E tu sei buono? Vabbè, diciamo che... Che devo dire? Fa piacere sentirsi dire questo. Io penso che... Che penso? Parla. Eh, scusate, però... Dove essere la chiusa... Fa piacere il presidente, diciamo che è uno che... Un giorno ci siamo promessi l'anno scorso delle cose che non posso dire e io spero di poterlo accontentare e spero che lui possa essere veramente un uomo a cui devo dare tutto, a cui dovrò dare tutto della mia carriera e della mia professione. Io spero che il nostro percorso possa continuare come... E spero di poter dare tutto quello che ho, anche di più, per cercare di rendere sempre questa persona orgogliosa della sua scelta. In questo momento non ho altre parole, perché... Onestamente uno ci pensa, penso che è un allenatore il dovere di fare bene per poter poi... Per poter finire, però... Il presidente è una persona che io, purtroppo no, però voglio troppo bene, lui continua a sorprendermi, però io... Scusate, però non ho parole su queste cose, cioè sono... Sono... No, no, sono... No, ma perché poi non vorrei passare... Cioè, è una persona che veramente voglio bene, stimo, lo ringrazio, però adesso dobbiamo pensare intanto a completare, a vincere questo campionato, che ancora non l'abbiamo vinto e poi... E poi andiamo. Scusate, però... Roberto Cultrera, Radio West Sicili, il duro compito. La chiosa è quello che ha descritto, mister, i complimenti e questa conferma di fiducia la merita tutta. Volevo fare una chiosa su gli euro goal di convitto di Marco Palermo, ma mi stoppo così. Le faccio l'imbocca al lupo per il futuro. Voglio chiudere così. Grazie Crepi, sul discorso del... Pensiamo però adesso, adesso dobbiamo pensare al presente, dobbiamo andare a chiudere questo campionato nel miglior modo possibile, dobbiamo ancora vincere, cioè io vorrei fare passare un messaggio, cioè il Trapani ad oggi non ha vinto niente. Noi abbiamo ancora un campionato da andare a vincere, anche perché gli altri ancora ci credono, l'hanno detto pubblicamente in televisione i giocatori di altre squadre della nostra diretta concorrente che ci credono ancora, quindi noi non possiamo permetterci assolutamente di abbassare la guardia. Dobbiamo vincere questo campionato quando prima è possibile, ci siamo quasi, ci siamo vicini, sui due euro goal non sono d'accordo perché quello sui convitto è stato deviato quasi e Marco Palermo ha colpito la palla male, quindi diciamo che... Facciamo l'ultima? Dai, scherzo, scherzo, complimenti a convitto e a Marco. Ciao mister, complimenti, Salvatore Puccio con Sicilia, io un'ultima considerazione la voglio fare veloce, al di là dei numeri di questa squadra che sono eccezionali, lo sappiamo, al di là di quello che sta confermando e ha fatto vedere questa squadra in questo campionato, io possiamo dire, arrivata alla ventottesima giornata di campionato, per quello che ha fatto vedere in tutte queste 28 giornate la squadra, che il Trapani o la tua squadra, i tuoi ragazzi non appartengono a questo campionato? Sì, questo sì, lo possiamo dire perché lo stanno dimostrando in lungo e in largo e questo va detto perché il lavoro che ha fatto la società attraverso anche il direttore, col presidente, i meriti questi sono loro, non sono i miei, hanno fatto un mercato con ottica occhio al futuro. Quando diceva questo il presidente veniva anche, tra virgolette, non criticato però, veniva preso magari questo, pensa già per l'anno prossimo? Sì, perché è sicuro dei suoi mezzi, è sicuro di quello che dice, ha fatto un mercato con un occhio alla Lega Pro e questi stanno i risultati di creare una squadra, come vi ho detto voi più volte, che ha giocatori che in queste categorie c'entrano poco, però, però, che si sono adattati mentalmente alla categoria, perché guardate che giocatori di C, che vengono in D, non è detto che faccia quello che fanno, invece sono venuti con tanta umiltà, voglia e hanno accettato un progetto importante e questi sono i risultati. C'è Montini, lei che aspetta l'intervista, oggi è entrato, è entrato bene, con fame, con voglia, ha corso, ha recuperato palloni, ha fatto scivolate, ha fatto sportellate con tutti e questo cosa vuol dire che è già entrato nel nostro meccanismo. Questo perché? Perché i suoi compagni in dieci giorni, durante la settimana, gliel'hanno già trasmesso. Quindi su questo, penso abbiamo finito, l'Euro gol è quello di Marigoso. Buonasera a tutti. Proseguiamo quindi il post-gara di Trapani San Cataldese, in sala stampa Mattia Montini e Federico Marigoso, iniziamo con le domande, vi chiedo sempre di presentarvi e iniziare. Grazie. Ciao allora per Marigoso, Salvatore Puccio, Go Sicilia. Allora, un gran gol, poco fa l'ha definito il mister un Eurogoal, ecco, raccontaci come è stato, perché ti sei, è stata diciamo una precevole azione, c'è un'azione tua personale, hai controllato bene la palla e poi hai calciato che non è il tuo piede, quello là. Ecco, dici. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, mi è arrivata questa palla da Giovanni, mi son girato con il destro, poi non ho visto subito la porta perché è stata veloce, c'era Andrea Cocco che me la chiamava, però appena ho visto che avevo un po' di spazio ho calciato con il sinistro e è andata bene. E a Montini chiedo quindi la scelta, sei l'ultimo arrivato, già hai sordito bene la scorsa settimana e anche oggi, ecco, la scelta che ti ha portato a Trapani, come ti stai trovando e come ha detto il mister che anche tu venendo dalla Serie C sei consapevole che bisogna calarsi in questa realtà della Serie D. Sì, buonasera a tutti. Il mister ha detto una cosa che non è scontata. Scusate. Ha detto una cosa che non è scontata, spesso magari quando si scende di categoria si viene un po' con la puzza sotto il naso, io lo dico da romano, ecco. Però sarebbe un errore grande perché comunque ogni categoria ha le sue insidie. E' pur vero che in questo momento della stagione stiamo dimostrando di essere come Trapani una squadra nettamente superiore alle altre, però mancano ancora tante partite e questo per me che sono arrivato da poco è una motivazione in più per poter dare il mio contributo. E sono contento perché credo di essere arrivato in una società ambiziosa che ha un progetto a lungo termine e soprattutto sono contento perché ho trovato dei ragazzi che mi hanno accolto nel modo giusto. Buonasera, Peppe Cassis, Forza Trapani, volevo iniziare da Marigosu. Senti, ormai la convinzione, più che convinzione è un dato di fatto, ci siamo abituati a vederti giocare solo in casa. Volevo capire come lo stai vivendo questo aspetto e se in tal senso hai parlato con l'allenatore e te ne ha parlato lui di questa che è un dato di fatto. L'altra considerazione invece era sull'assetto oggi iniziale perché ti abbiamo visto parlare tantissimo con l'allenatore perché all'inizio ne abbiamo parlato anche con lui, questo modulo loro che in un certo senso non ci aspettavamo e quindi sia la posizione tua sia di quella di Palermo ha avuto qualche aggiustamento. Lì abbiamo un po' sofferto. Allora, sulla prima domanda, sicuramente come da inizio anno siamo tanti, abbiamo sempre ruotato e quindi io sono contento del mio ruolo nella squadra perché comunque siamo tutti uniti verso un obiettivo quindi quello che importa poi è l'obiettivo finale, non quello personale, magari di giocare tutte le partite quindi la scelta del mister è questa e io mi adeguo. Sulla disposizione della San Cataldese sì, ci aspettavamo un altro modulo, loro hanno fatto un 4-4-2 quindi creavano più densità centrale, avevamo preparato la partita dove io e Marco comunque andavamo in zona 3 quarti e poi ci siamo resi conto che potevamo essere più pericolosi sulle fasce e appena abbiamo sistemato un attimo poi siamo andati bene. Sì, Montini invece già ti abbiamo visto segnare in un bel golo diciamo anche se non è che l'hai preso benissimo insomma, comunque è stato importante. Come ci si cala in una realtà già abbastanza rodata, anche se tu hai sicuramente tanta esperienza da questo punto di vista quanto ti hanno aiutato i compagni e quanto sei stato bravo tu ad adattarti a questa realtà? Beh sicuramente non è semplice, l'esperienza può aiutare, è un fattore determinante perché come ti ripeto venire da una categoria superiore magari puoi rischiare di peccare un po' di presunzione io invece ho cercato e sto cercando tuttora perché sono solo 15 giorni che sono qui di inserirmi gradualmente in punta di piedi senza essere troppo invadente cerco di ascoltare tanto, cerco di dare il mio contributo, il mio aiuto soprattutto ai ragazzi più giovani ecco non è semplice soprattutto in una società, in una squadra che sta spingendo al massimo però penso che l'esperienza possa essere un fattore chiave e i compagni senza dubbio, io lo ripeto quello che ho detto prima ho trovato dei ragazzi, a parte la città in generale, un'accoglienza fuori dal comune ma anche all'interno del gruppo Trapani, non solo i compagni, staff medico, staff direttore sportivo dal primo momento mi hanno fatto sentire una persona all'interno del gruppo e quindi questo credo mi possa aiutare anche nelle prestazioni in campo Buonasera entrambi, Francesco Torrente, Radio Cuore, Trapani, sì intanto rivolgo una domanda a Federico Marigosu oggi ti abbiamo visto svariare tanto lungo il campo questo serve proprio a creare spazi e superiorità numerica? Sì certo, ovviamente giocando con una sola punta magari se Andrea come gli piace viene tanto incontro io mi posso buttare subito alle spalle posso andare largo per giocare con Roberto quindi cercavamo più soluzioni appunto perché loro cambiando modulo dovevamo comunque creare qualcosa di diverso da quello che avevamo preparato Una domanda a Montini diciamo che tu hai avuto un'esperienza, hai tanta esperienza e quindi cosa trovi di diverso magari anche se il tuo approccio attualmente al campione di Serie D ovviamente è piuttosto breve però cosa trovi appunto di diverso tra il campione di Serie D e quello di Serie C quali sono i punti che potrebbero aiutare il Trapani in vista della prossima stagione qualora doveste vincere il campionato? Allora, in realtà è passato poco tempo quindi non me la sento di dare un giudizio, un'opinione riguardo la Serie C, la Serie D eccetera quello che posso dire è che il calcio è un linguaggio universale quindi le difficoltà che si trovano nelle categorie superiori si trovano anche nelle categorie in Serie D o in categorie inferiori e in questo momento l'obiettivo nostro è quello di rimanere sempre concentrati è vero che si parla già dell'anno prossimo è normale, credo sia parte di quello che il Trapani e i miei compagni di squadra hanno costruito nei mesi precedenti però io invece preferisco rimanere concentrato sul presente e cercare di far bene fino all'ultimo o perlomeno fino a che la matematica non ci dica che siamo su Ci sono altre domande? O ci fermiamo qui? Grazie a voi Grazie mille a Mattia Montini, Federico Marigosu Grazie a tutti